ciao a tutti e bentornati con un'altra su indie gameplay it oggi andiamo a provare a costruire la nostra prima barca non la barca classica quella che vedete qui la barchetta insomma da pesca ma una barca a vela come vi dicevo in gioco ci sono tantissime cose da fare spesso molte delle quali sono lunghissime ma che vi danno soddisfazione e soprattutto vi cambiano il gameplay infatti questa barca non la perderemo più al massimo potremo romperla dovremmo ripararla la prima cosa da fare ovviamente mi sono informato dobbiamo fare il materiale per costruire il pontile perché si costruisce in mare quindi adesso andiamo craftiamo questa cosa qui con 100 lamber ne ho fatti 200 perché sono andato a vedere i requisiti e sono richiesti ok 100 lamber ok ho fatto questo materiale craftato questo materiale che dovremmo avere adesso qua nello zaino da qualche parte intanto vediamo abbiamo acquisito ecco questi materiali qui che sono oddio non vorrei mai averlo lasciato sotto la ma non credo ok abbiamo fatto quello ora dobbiamo andare a piazzare il pontile quindi il pontile lo troviamo di qua andiamo a posizionare il blocco insomma una sorta di impalcatura dove andremo a costruire il nostro clipper quindi prendiamo il progetto che ho comprato grazie a 100 gilda star ho comprato il progetto quello senza la pione ma con i cannoni qua ci fa a scegliere un punto dove poterlo costruire adesso ci buttiamo in acqua e cerchiamo un punto dove ecco forse la cui dove non non è rosso qui eccolo lì tac lo costruiamo spendiamo 30 gold che non è poco e a questo punto andiamo là a vedere che cosa dobbiamo fare perché questo è il pontile dobbiamo fare molta attenzione perché il pontile resta qui solo 11 ore quindi qualora allora f legname legname dobbiamo fare il legname dicevo qualora fossimo sprovveduti e creassimo questo senza avere tutto il resto dopo 11 ore scompare e quindi ci perdiamo 100 lamber 100 lamber corrispondono a 300 log quindi ogni albero che abbattete mediamente e cedere vi danno 7 8 log ad albero e un albero per crescere ci mette 18 ore quindi io li ho piazzati in casa li ho piazzati anche in casa di alcuni gildani che mi hanno dato la disponibilità e quindi insomma abbiamo fatto quello che dovevamo abbiamo fatto un bel po' di log li ho fatti ho poi speso parecchi punti per trasformare 300 di questi in 600 in realtà perché ne ho fatti 200 ora creiamo il trade park quindi praticamente andiamo in diversi secondi e 25 lab or alla fine il labor che ci verranno richiesti per la creazione dell'intero clip sono circa 225 quindi non è tantissimo ora trasportiamo ovviamente a questa velocità perché non abbiamo modo di andare più velocemente andiamo a trasportare il legname poi faremo il blocco di metallo e poi faremo il blocco di cloth che è il tessuto io il cloth non l'ho mai lavorato perché non ho le materie prime quindi l'ho comprato all'asta mediamente ho speso tra i 100 lingotti che non mi andava di craftare a mano prendendo le ore 300 ore per farne 100 infatti 110 giusto nel caso in cui me ne chiedesse un po' di più dovete ho pagato in totale una trentina di gold quindi alla fine una sessantina ne ho spesi 30 per l'allestimento di questo un'altra trentina per i materiali che non avevo non ho comprato il logo ma per i lamber ma ho preferito farli perché il lamber almeno quello raffinato costano un capitale il legno forse tra le cose più costose intanto abbiamo allestito questo ora abbiamo da portare uno di iron pack quindi adesso il perdere che prendo un po il volo allora ora dobbiamo andare alla workstation del minatore che dovrebbe essere questo lo smelter credo e sulle ore prendiamo singola produzione perché quando saremo livelli alti potremo produrne in serie 10 alla volta anziché uno alla volta creiamo l'iron pack quindi con 100 lingotti facciamo il pacchetto di lingotti che ci carichiamo sulle spalle che è il secondo che serve poi dovremo trovare un telaio che dovrebbe essere qua vicino per lavorare il clotta a quel punto a quel punto ce ne andiamo a spendere gli ultimi tre diciamo slot adesso vi farò vedere dove si semplicemente si andrà a montare ad assemblare tutto che si traduce solo e semplicemente in una il labor point spesi ecco adesso io ne ho 3.200 quindi in questo video arriva subito dopo quello che ho fatto nella città di mariannopel e depositiamo ci mette un po ci mette sempre un po e intanto poi vedete qua nello zaino io ho prodotto delle cose ad esempio ci sono alcune colture tipo la se voi avete ad esempio vi spiego un'altra meccanica se avete il recinto diciamo una sorta di cupola dove all'interno ci sono pecore che ogni tottore vi danno la lana per raccogliere la lana dovete dar da mangiare a queste pecore le pecore si alimentano con il combiner feed il combiner feed lo comprate quindi diminuite la la diciamo il guadagno perché alla fine combiner feed non costa poco 40 silver dall npc 30 35 dai giocatori all'asta se non lo volete fare vi serve coltivare qualcosina e coltivate questo con il quadrifoglio lo comprate a pochi silver dall npc la zucca invece no la zucca la comprate con questi punti qua con i vocation badges e i vocation badges li generate o facendo quest giornaliere io ho delle quest che mi danno tipo 2000 al giorno quindi costa 45 un semi di zucca una zucca che matura in quattro ore e mi il combiner feed serve anche la balla di fieno la balla di fieno la fate solo a random perché in pratica dovete raccogliere colture tipo il grano quelle cose lì ogni tot c'è la possibilità che venga fuori una balla di fieno si trovano abbastanza facilmente ora creiamo la produzione tessile del fabric pack che è l'ultimo che serve e poi da qua poi vi sto proprio documentando quello che succederà al mio modo di giocare perché io ho molti dubbi molti dubbi perché io costruirò questo clipper sarà una nuova mount per me aprirà una serie di cose avete visto nel video scorso nei video scorsi che io andavo line dove c'è quella specie di faro quell'edificio lì compravo la protezione del capitano prendevo la nave pubblica ora potrò farlo da solo il problema che farlo da solo è primo sapere bene il percorso quindi prima volta guarda la mappa così seconda cosa non c'è nessun tipo di protezione quindi io vado incontro un pirata pirata mi salta addosso mi uccide magari mi demolisce la nave canonate perdo il pack ho speso 26 di gold di pack vanno persi va persa anche la nave la nave se la distruggo il clipper barca vela in quel caso dovrò spendere dei soldi per poterla sistemare ora depositiamo l'ultima e poi siamo pronti vedete qua che la nave in costruzione siamo pronti per spendere gli ultimi 75 labor point per ultimare la barca in realtà ora il mio focus principale era la casa perché devo portarla a livello 2 in modo che mi produca in automatico come vi avevo già spiegato del minerale però è proprio questo è stato proprio uno sfizio che mi sono voluto togliere ora vedete che la nave è quasi pronta ora premiamo g spendiamo 25 labor point ora inizierà questa trafila in cui adesso io vi lascio in attesa in cui faremo tre volte quest'operazione ci vorrà credo questo punto un minuto minuto e mezzo e ci sentiamo tra poco ok come vedete ha preso forma ora siamo pronti e abbiamo finito ora andiamo a raccogliere la nostra nave vedete che viene calata in mare festa grande festa e questo è il clipper finito ora la postazione qui scomparirà ed eccolo il nostro clipper bigger is better abbiamo sbloccato da quasi sale premendo f scusate ok quasi sale e siamo a bordo abbiamo il cannone no 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 non mi non mi sparare in città perché no tra l'altro mi serve uno stilamo quindi no ho anche questo che sembra essere molto interessante praticamente mi permette di respirare sott'acqua e qua invece vabbè ho anche un arpione vabbè mi metto il comando fighissimo questo è stato veramente un game changer per me ora vedete io ho completato quegli achievement così vi spiego anche l'ultima cosa gli achievement vi danno in questo caso mi ha dato un gilda star se premete il tasto v ci sono tutta una serie di achievement ce ne sono un'infinità che se li completate vi danno un premio esempio su general ce n'è sul charter se non lo so portiamo tutte e 12 le abilità a livello 55 ci danno un gilda star sul crafting se acquisiamo un carretto più grande di quello che ho ancora che ha 8 spazi mi danno un gilda star se completiamo tot cose e quindi insomma di cose da fare ce ne sono anche solo in base agli achievement tanto sto incasinandomi la vita perché non so guidare sto a fare no 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 ferma perché dei punti vita sto a fare ora qua abbiamo for wind praticamente ci ci prende il vantaggio del vento qua ci permette di curvare velocemente questo è buono non lo so e questi sono i dettagli raggiungermi pari gli 11 metri al secondo quindi il doppio rispetto a un carretto normale no addirittura più veloce quasi 12 ok questa è la vita e qua vedete tutta la personalizzazione la figata che potete cambiargli la vela cambiargli le varie cose potenziarle quando le navi diventeranno grandi saranno potenziabili molto molto di più ora io ho preso il clipper il clipper dovrei dovrei trovarmelo eccolo qui io lo metto qui nella nella barra veloce quindi posso toglierlo andarlo via e richiamarlo all'occorrenza ora si apre davanti a me tutta una cosa particolare tutto il mare qui tutto il mare qui tutto il mare qui con pirati ricordiamo che i pirati sono una fazione a cui tanti player si sono uniti e quindi vivono sulle isole vivono di pirateria vivono a portare via i pack commerciali di altre persone bene ragazzi allora questo è stato un grandissimo risultato per me poi tra tutto la volta scorsa avete visto che sono passato a livello ancestrale 1 giusto per intenderci non ho ucciso mostri non ho fatto missioni di uccisione mostri ho registrato semplicemente il pomeriggio ho registrato la mattina quel video questo è stato registrato il pomeriggio sono già al 10 per cento quindi solo craftando facendo queste cose sono salito e ovviamente la costruzione di nave è una proficiency ed è machining quindi machining è un'altra abilità quindi se avete poi la possibilità di specializzare in qualcosa sarà senz'altro meglio per la vostra gilda anche perché esistono delle bacchecche che poi in caso vi farò vedere se vi interessano altri video delle bacchecche dove potete intanto arrivate alla nave per portare il pack ma oggi l'ho già fatto ci sono delle baccheche in cui la gente mette i materiali per craftare degli oggetti e paga e quindi tu accetti ti vengono dati ci viene dato il compito di craftarlo lo crafti e a quel punto l'oggetto va al legittimo proprietario per tu hai speso i tuoi labor points tu hai messo a disposizione la tua mano d'opera il problema che ho notato e spero poi qualcuno magari di esperto mi sventisca poi ho notato che alcuni lavori sono veramente sottopagati probabilmente a causa del fatto che esiste una quest che ti dice di metti un annuncio e quindi probabilmente tanta gente ha messo delle cose stupide a un prezzo ridicolo in realtà ci sono delle delle cose veramente utili vedo se riesco a farvelo vedere già adesso però non credo no infatti no 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 bisogna andare community no 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 non c'è qua sono gli eroi vedete gli eroi del server i candidati quelli che si sono candidati che hanno più punti leadership che è un'altra statistica e quanti boss hanno ucciso insomma tantissime cose da da vedere da da fare ovviamente poi chi diventa eroe perché ci gioca 24 ore al giorno questa è una dei mezzi costa mille mille 1500 gili da star quindi è una cosa lunghissima e comodissimo perché va molto veloce quindi si trasportate un pack lo fate in un decimo del tempo quindi molto molto figo come cosa e niente io ho già ho già realizzato molte cose che volevo la casa questo ancora lavorando il carretto per commerciare è una cavalcatura buona la cavalcatura da trasporto il pet da combattimento parzialmente equipaggiato con cose scarse che ho chiamato non sono stato io e oggi la nave il clip insomma la barca vela allora niente vi chiedo che cosa ne pensate di archeggio dopo aver visto tutti questi video se avete letto così tanto insomma e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi e ciao ciao